Buonasera, buonasera a tutti, bentornati sulla tradizione antica, canale che parla di magia, esoterismo, paranormale, ma soprattutto di cabala. Bentornati e benvenuti dal vostro Luigi ed eccoci qui con un nuovo video, un video che di nuovo parla di magia elementale. Eccoci ad un altro argomento di questa sezione. Oggi esploreremo i libri di Thoth, tra i quali anche il libro dei morti degli Egizi. Che cosa sono i libri di Thoth? Non perdiamo tempo, andiamo subito a vederli, ma prima vi ricordo che nei commenti a questo video troverete il link per andarvi a vedere il primo video sulla magia elementale. Perché guardarlo? Perché dovrete ripassare un po' di contenuti che riguardano la tavola di smeraldo e altre piccole cose. Non perdiamo altro tempo, eccoci qui, vediamo questa immagine, cosa vediamo qui? Io mi sono spostato in piccolo come al solito. Cosa vediamo qui? Vediamo due tavole di smeraldo, vediamo il dio Thoth così come lo raffiguravano gli Egizi, e cioè con la testa di un ibis, il cui lungo becco rappresenta la luna. Vediamo anche un signore, potremmo dire canuto, che tutto sembra fuorché un Egizio. Perché? Non voglio anticiparvi troppo, ma sostanzialmente vedremo che tra gli esoteristi il dio Thoth viene assimilato ad un tal Ermete Trismegisto, ma anche e soprattutto alla figura del patriarca biblico Enoch. Cosa sono i libri di Thoth? Sono dei libri mitici, 42 in tutto, che sarebbero stati redatti e lasciati su da terra proprio dal dio Egizio, nei quali si troverebbero i misteri dei cieli e predizioni di eventi planetari futuri. Questi libri profetici sarebbero stati nascosti in biblioteche egiziane segrete, e al momento risultano dispersi, quindi nessuno li ha mai visti in tempi recenti e neanche poco recenti. Chi era Thoth? Thoth era il figlio di Ra, dio del sole egizio, ed era il suo consigliere. Per gli egizi Thoth era il dio della luna, della scrittura, della sapienza antica, cioè della magia, e della matematica e la geometria. In realtà Thoth potrebbe essere identificato con il dio greco Hermes, ma secondo alcuni studiosi di esoterismo potrebbe essere niente meno, come dicevamo, che Hermete Trismegisto, ed ecco vi rimando al primo video sulla magia elementale, ma anche il patriarca biblico Enoch, bisnonno di Noè. Abbiamo accennato di Enoch nel primo video, nella prima video lezione sulla Kabbalah, e dobbiamo qui aggiungere che a breve uscirà la seconda video lezione, intorno al 15 di gennaio. Secondo la tradizione egizia, ovviamente ho sbagliato a scrivere qui, Thoth donò agli esseri umani questi libri, tra i quali i libri dei morti, per trasmettere l'antica conoscenza divina. E adesso andremo a vedere proprio un po' più nel dettaglio i libri dei morti. Andremo a vederli perché scopriremo più avanti che alcune delle magie contenute nei libri dei morti avranno contribuito a creare qualcosa di particolare che serve nella divinazione. Anche qui non voglio anticiparvi troppo, andiamo avanti nel video e proviamo ad andare a vedere che cosa sono i libri dei morti. Questo papiro voi lo troverete se andate a visitare il museo del Louvre, ed è proprio il frontespizio del libro dei morti egizi. Che cos'è il libro dei morti? E' un antico testo funerario, funebre, degli egizi, che viene usato stabilmente dall'inizio del nuovo regno. Considerate che vi era un regno antico degli egizi e poi vi è stato un regno intermedio e il nuovo regno. Il nuovo regno, quindi circa dal 1550 avanti Cristo, è stato usato fino alla metà del primo secolo avanti Cristo. Il titolo originale del testo è traslitterato come Non conosciamo ovviamente la pronuncia moderna perché l'antico egiziano è una lingua morta. Alcune traduzioni indicano Runu, Peret, Hem, Eru come libro per poter uscire dal giorno. Ma secondo gli studiosi di esoterismo la traduzione corretta che andrebbe utilizzata è Libro per emergere dalla luce. Libro è il termine che un po' più si avvicina per indicare questa che in realtà è una raccolta di testi. E' infatti il libro dei morti una raccolta di formule magiche e religiose che dovevano servire al defunto come protezione e aiuto nel suo viaggio verso la Duat, cioè il mondo dei morti. Quindi tenete conto che per gli antichi egizi il mondo dei morti era qualcosa che si riteneva pericoloso, irto di insidie e di difficoltà. E superando la Duat attraverso il libro dei morti l'anima poteva raggiungere l'immortalità. E' stato scritto e composto da diversi sacerdoti egizi nell'arco di circa un millennio, indicativamente a partire dal XVI secolo a.C., quindi dal 1700 a.C. Vediamo che non ci fu mai un'edizione canonica, cioè non c'è mai stato uno scritto raccolto canonico e unitario e infatti non esistono due esemplari uguali dello stesso libro. I papiri che si sono conservati e che sono arrivati fino a noi contengono diverse sezioni di formule magiche, testi religiosi e anche delle illustrazioni. Alcuni individui sembrano aver commissionato delle copie del tutto personali del libro dei morti, scegliendo probabilmente con una certa libertà quelle frasi e quelle formule che ritenevano importanti per il proprio accesso e percorso verso l'aldilà. Il libro dei morti era quasi sempre scritto in caratteri geloglifici o ieratici, cioè gli geloglifici più nuovi, diciamo, quelli più recenti, su rotoli di papiro e alcune volte era decorato con illustrazioni o vignette del defunto e delle tappe del suo viaggio ultraterreno. Attenzione però perché stiamo parlando delle epoche più recenti, vedremo infatti che i primi libri dei morti venivano scolpiti nelle tombe o sui sarcofagi. In effetti il libro dei morti si compone principalmente di tre testi, che sono i testi delle piramidi, sono i testi più antichi, i testi dei sarcofagi e poi i testi del nuovo regno. Per quanto riguarda i testi delle piramidi, furono impiegati per la prima volta nelle piramidi del faraone Unis dalla Quinta Dinastia, morto intorno al 2350 a.C. E qui ancora torniamo a vedere come il libro non era scritto su papiri, ma era di fatto inciso proprio sulle tombe dei faraoni. Erano appunto scolpiti sulle pareti delle camere sepolclari e di solito erano dedicati ai soli faraoni, tenuto conto che invece a partire dalla Sesta Dinastia vennero estese ad alcune spose reali, quelle ovviamente più importanti. Ricordiamo che il faraone era poligamo. Molti dei testi delle piramidi furono redatti in geroglifici oscuri e inusuali, che non venivano usati normalmente. Diversi segni che raffiguravano esseri umani o animali venivano addirittura lasciati incompleti o addirittura mutilati per impedire simbolicamente che arrecassero un qualsiasi danno al sovrano che era defunto. Lo scopo dei testi delle piramidi era aiutare il re a prendere il proprio posto tra gli dèi e in particolare a riunirsi con il dio del sole Ra, che era il suo genitore divino. Secondo gli egizi il faraone era un dio vero e proprio. L'aldilà per gli egizi era immaginato in questo periodo storico nei cieli, loro lo vedevano nell'alto dei cieli, mentre più avanti verrà descritto come un'oltretomba sotterraneo. Ma in questa fase, nella fase dei testi delle piramidi, l'aldilà era qualcosa che si trovava appunto nell'alto dei cieli. Alla fine della Sesta Dinastia, i testi delle piramidi cessarono di essere un'esclusiva dei faraoni e quindi prima vennero scolpiti anche per le spose regali, ma poi vennero adottati anche da nobili altifunzionali e governatori locali. Andiamo poi a vedere quelli che sono i testi dei sarcofagi. Si servirono per farli di un linguaggio molto meno antico, meno arcaico. C'erano formule nuove e per la prima volta vi erano illustrazioni e figure. Venivano incisi sui coperchi e sulle pareti esterne e, di solito più comunemente, le pareti interne dei sarcofagi, benché siano stati sporadicamente rinvenuti anche su pareti del sepolcro e sui papiri. I testi dei sarcofagi erano accessibili a chiunque fosse abbastanza ricco da permettersi un sarcofago e questo allargò il numero di coloro che avrebbero potuto aspirare alla vita eterna. Qui vediamo quindi che passato il VI secolo e andando avanti negli anni diventa più che una questione di rango una questione di denaro, di possidenza. Cioè gli antichi egizi risparmiavano per poter avere un sarcofago perché avere un sarcofago voleva dire poter avere inciso al suo interno e al suo esterno il libro dei morti, cosa che consentiva all'anima, lo ricordiamo, di andare nell'aldilà e di superare le difficoltà del regno dell'oltretomba. I testi del nuovo regno invece si riferiscono principalmente al papiro di Yuya. Come datazione siamo intorno al 1388-1350 a.C. Ricordiamo che i secoli a.C. vanno al contrario rispetto ai nostri. Quindi il 1388, anche se è un numero più grande, è un'età più antica. Durante il nuovo regno l'articolazione e la diffusione del libro dei morti raggiunge l'apice della sua gloria. Tanto è vero che a noi giungono appunto dei papiri, tra i quali nel papiro di Yuya appunto c'è la famosa formula 125, che è la formula della pesatura del cuore. Compare questo papiro durante i regni di Aschepsut e di Tutmosis III intorno al 1475. Da allora il libro dei morti è stato trascritto sempre su rotoli di papiro, con l'aggiunta di illustrazioni anche molto complesse. Quindi il rotolo di papiro veniva posto all'interno del sarcofago o della camera funeraria. Ovviamente anche in questo caso, anche se non era inciso sul sarcofago, aveva un costo notevole, per cui i poveri tendenzialmente non potevano permettersi di andare nell'aldilà. Vediamo qui, vi mostro un'immagine di quella che è proprio la pesatura del cuore. Potete riconoscere con la testa di Ibis sul lato il dio Thoth, e dalla parte esattamente opposta potete vedere il dio Anubi con la testa di Sciacallo. La pesatura del cuore consisteva in un processo particolare tramite il quale il dio Anubi pesava il cuore del defunto. Un cuore leggero indicava un'anima che non aveva commesso peccati in vita, quindi una persona sostanzialmente buona. Viceversa, un cuore pesante indicava una persona malvagia. Tanto più l'anima era leggera, tanto più l'anima poteva muoversi verso l'immortalità. Tanto più era leggera, tanto più sarebbe rimasta imprigionata nei regni dell'oltretomba. Visto il libro dei morti, che è un po', se vogliamo, la premessa del libro di Thoth, andiamo a vedere più chiaramente quello che è il libro di Thoth. Lo vediamo anche qui scritto su una pietra, in quelli che sono i geroglifici un po' più moderni. E ricordiamo che di questo libro noi ne abbiamo conoscenza storica, sappiamo che sono 42 testi, adesso lo vedremo, ma è stato perso, è stato smarrito, quindi nei tempi moderni non esiste neanche una edizione o una prova dell'esistenza dei libri di Thoth. Partiamo da quelli che sono i contenuti astronomici dei libri di Thoth. Innanzitutto in questi libri viene fissato il calendario sull'anno solare di 365 giorni e un quarto. Quindi, perché è un quarto? Perché sappiamo benissimo che ogni quattro anni c'è un anno bisestire, quindi sono di fatto 365 giorni e 6 ore. Questa è la durata di un anno, che poi è il tempo che effettivamente la Terra ci mette a compiere il proprio moto di rivoluzione intorno al Sole. Viene poi tessata e detta la precessione degli equinozi. Tutto ciò in astronomia è assolutamente considerato valido, da un punto di vista astronomico si sa che queste cose esistono. La precessione degli equinozi è un movimento dell'asse terrestre che è simile a quello di una trottola. Non confondiamolo col movimento di rotazione della Terra, cioè quello che la Terra compie su se stessa in 24 ore durante il giorno. No, il movimento della precessione degli equinozi è un movimento dell'asse terrestre che sembra una trottola, quindi l'asse terrestre si muove in questo modo, come una trottolina. Questo movimento fa cambiare l'orientamento dell'asse stesso rispetto al Sole e alla volta celeste. È una rotazione lentissima, tanto è vero che per compiere un intero giro ci mette 26.000 anni quasi, più o meno, e durante questi anni la posizione delle stelle sulla sfera celeste, sulla nostra volta, cambia per poi ritornare a un punto di partenza. Durante questo periodo, secondo gli antichi, si creano, durante questi cicli processionali, si creano delle catastrofi planetarie, delle enormi catastrofi sul nostro pianeta. Quindi l'intento degli antichi sarebbe stato quello di poter trasmettere ai posteri un modo per calcolare la fine di ogni ciclo, dove appunto avvengono queste catastrofi. Per questo motivo gli antichi egizi eressero delle costruzioni talmente grandi e imponenti che potevano resistere al peggiore dei cataclismi. Monumenti nelle cui proporzioni matematiche e allineamenti astronomici era contenuto un messaggio che in questo modo sarebbe arrivato e sarebbe sopravvissuto al trascorrere dei millenni e arrivato ai giorni nostri. Andiamo a vedere invece quelli che sono i contenuti che riguardano l'esoterismo e la divinazione del libro di Thoth. Gli studiosi di esoterismo hanno individuato in 22 delle tavole dei libri di Thoth, tavole che ci vengono, ricordiamo, raccontate perché i libri non sarebbero mai stati ritrovati, le cosiddette lamine dei tarocchi che rappresentano i 22 arcani maggiori. Per questo motivo è opinione comune che i tarocchi derivino direttamente dai libri di Thoth. I 22 arcani sono il bagatto, chiamato anche il mago o alchimista, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, il papa, gli amanti, il carro, la giustizia, che è conosciuta anche come... scusate, la giustizia, l'eremita, la ruota, la forza, l'appeso, la morte, che è conosciuta come l'arcano senza nome, la temperanza, il diavolo, la torre, la stella, la luna, il sole e il giudizio, che è chiamato anche l'angelo, il mondo e infine il matto. Per quanto riguarda i tarocchi, ne parleremo approfonditamente nei prossimi video sulla magia elementale e che parleranno direttamente di divinazione. Non soltanto i 22 arcani sembrerebbero riferirsi a quelle tavolette, ma il numero 22 richiama anche alle 22 vie dell'albero della vita, l'albero cabalistico della vita, e alle 22 lettere dell'alfabeto ebraico, che appunto derivano dalle 22 vie. Questo colloca i libri di Thoth come uno degli scritti più importanti della cabala. Andiamo infine a fare un piccolo riassunto sull'esoterismo, dicendoci che i libri di Thoth costituiscono il nucleo più grande e antico degli scritti esoterici, del quale si ha conoscenza ma non se ne è trovata traccia. Alcune speculazioni, alcuni ragionamenti speculativi, indicano che essi possano in realtà essere libri di Enoch e che il ritrovamento di quei libri costituisca una più recente trascrizione proprio dei libri di Thoth. Come vi ho detto, a breve uscirà la seconda video-lezione sulla cabala e parleremo approfonditamente dei libri di Enoch. I libri di Enoch sono stati ritrovati in varie versioni e varie lingue, a partire dall'ebraico, che è l'Enoch cosiddetto antico, fino allo slavo. E sostanzialmente alcuni sostengono che questi libri non siano nient'altro che delle trascrizioni degli originali libri di Thoth. Questo comporterebbe appunto il fatto che in realtà Thoth non sia altro che il famoso ermete trismegisto o proprio il patriarca biblico Enoch. Alcuni esoteristi come Eliphas Levi e Aleister Clowley considerarono che l'origine del sapere magico risieda proprio in quei libri. E in particolare Eliphas Levi riteneva che la tavola di Smeraldo non fosse altro che un riassunto dei libri di Thoth, una specie di bigino per intenderci. Se uniamo le conoscenze della tavola di Smeraldo e dei libri di Enoch, secondo molti cabalisti, potremmo giungere a quelle speculazioni che vedono la nascita dei 22 arcani maggiori dei tarocchi proprio nei libri di Thoth. Dunque vi ho detto praticamente tutto sui libri di Thoth o perlomeno vi ho detto tutto quello che si poteva dire in un sintetico video di un 20-25 minuti. Se vi è piaciuto il video non dimenticatevi di mettere mi piace al canale YouTube, la tradizione antica, di iscrivervi al canale e di farlo mettendo la campanella perché tramite la campanella sarete aggiornati sui nuovi contenuti. Un'iscrizione mi fa sempre molto piacere e tante iscrizioni mi daranno la possibilità di poter continuare a parlare con voi e di portarvi nuovi contenuti. Ma abbiamo anche lì sotto la possibilità di seguire alcuni dei contenuti di questa pagina e qualche altra curiosità, magari qualche forum di discussione sulla pagina Facebook della tradizione antica. Molto bene e con questo vi ho detto davvero tutto vi saluto, vi auguro la buonanotte e ci rivediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!